Io mi ricordo la domenica mattina quando si aprivano i capannoni del carnevale, la gente era piena perché veniva a vedere i nuovi carri, la partecipazione c'era, c'è ancora e è quella che dobbiamo riscoprire. Promuovere la cultura, la storia del carnevale di Fano e avvicinare ancora di più i fanesi alla manifestazione più antica della città sono solo alcuni degli obiettivi del nuovo comitato Pacassoni Avanti coi carri. Un'associazione che conta già 100 iscritti e che è stata presentata alla cittadinanza da Fabiola e Alfredo Pacassoni, rappresentanti della celebre famiglia di carristi. Noi insieme a tanti altri carristi, Enzo Bonetti, Ernest Valentini, Marcellino Battistelli, Radicioni, Ferretti, Dalmonte, tanti, abbiamo contribuito a questo valore della città che rischia di essere, non viene mai ricordato. Questi personaggi, questi artisti, questi bravissimi artigiani hanno dato la passione, un contributo eccezionale che potrebbe essere la radice di progressivi sviluppi della città oggi, soprattutto in un periodo di crisi, e che purtroppo sono spesso dimenticati, quindi vogliamo valorizzare questo investimento fatto nel tempo, anche da Babbo Pietro e da Giorgio Pacassoni, ma da tutta la famiglia, perché noi, insomma, lavorando da bambini nel Carri del Carnevale, abbiamo conosciuto tutte queste esperienze e ci siamo accorti di questo investimento, che vogliamo suggerire ai fanesi di riscoprire. Sono già diversi i carristi che fanno parte del comitato, ad aderire anche Maria Flora Gianmarioli, ex vicepresidente della Carnivalesca, poi di missionaria sia per impegni personali, sia perché in quella situazione, ha spiegato senza scendere nei dettagli, non riusciva più a dare il suo contributo come avrebbe voluto. Gianmarioli si era anche candidata alla presidenza dell'ente. Intanto, i promotori del comitato lavoreranno su un progetto culturale che comprenderà degli incontri con la cittadinanza, e in particolare con i giovani studenti. Poi, nelle mattinate del 30 marzo e del 7 aprile, raccoglieranno le adesioni lungo Corso Matteotti. Alla conferenza stampa, inoltre, ha partecipato anche il sindaco Seri. Tutti i contributi sono positivi, ha detto, ricordando che l'ultima edizione è stata da record. Si può sempre migliorare, ha proseguito, ma negli ultimi tempi la città si divide un po' troppo spesso, e questo è un male. Poco prima i pacassoni, ai quali sono stati rivolti applausi e apprezzamenti, hanno fatto notare i dati che riguardano i soci dell'ente carnevalesca. Per una città con 60.000 abitanti, meno di 2.000 tesserati sono pochi, hanno detto. Gli altri 58.000 vanno aiutati a riscoprire il diritto di essere anch'essi parte della città del carnevale. La memoria come partenza, come ricordo e soprattutto come forza, perché poi io mi sono resa conto che sono i bambini che cantano pacassoni avanti coi carri, e l'ho sentito proprio con le mie orecchie, quindi mi sono detta, è quasi un inno, avanti, guardiamo avanti. E noi come famiglia, anche proprio nel rispetto e con onorevolezza, verso mio padre e mio fratello, quindi nostro padre e nostro fratello, abbiamo sentito il desiderio di ricongiungere un po' questi due mondi diversi. Il carnevale che nasce come gioco, ma che poi noi diciamo è una cosa seria, potrebbe diventare uno strumento proprio di unione per la città, per ritrovare quel senso comune di appartenenza di cui credo un po' tutti abbiamo bisogno.